Al primo posto i soldi per le opere complementari a ristoro dei disagi causati ai suoi concittadini dal passante, al secondo le frazioni. Maria Rosa Pavanello, sindaco uscente di Mirano, mette sul piatto la sua candidatura, pronta a sfidare gli avversari all'appuntamento del prossimo 11 giugno, per ora sostenuta dal Partito Democratico e da due liste civiche. Titolare della macchina amministrativa di Mirano, Pavanello, sui soldi che il Comune attende dalla Regione, non ha dubbi. Vogliamo portare a casa i soldi dalla Regione Veneto, quei famosi 19 ma che in realtà sono 42 milioni di euro che spettano a tutti i cittadini di Mirano. Insiste sul territorio di Mirano il passante di mestre e infrastruttura che ha notevolmente aumentato il traffico sul territorio, spiega la Pavanello. Questi soldi erano nell'accordo di programma firmato in primis dalla Regione Veneto ma da tantissimi altri enti, tra cui Veneto Strade, CAV che ha ereditato insomma tutta la gestione del commissario, la città metropolitana allora provincia di Venezia, la presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono soldi che spettano ai miranesi. Lusingata da alcuni risultati, la sindaco uscente sfoggia soddisfatta i dati della classifica del sole 24 ore sui 100 comuni più vivibili tra i 25 mila e i 35 mila abitanti. Ma al centro dei prossimi 5 anni, se sarà rieletta, Maria Rosa Pavanello mette anche le frazioni. Mirano non è solo Mirano capoluogo ma è anche le sue frazioni e quindi Campocroce e quindi Ballò e quindi Zianigo, Betrego, Scaltenigo. Adesso dobbiamo soprattutto agire anche in quei luoghi.